Io sono Renato Albertini, sono nato a Rabi, nel comune di Rabi, a Son Rabi, il 18 giugno dell'anno 1932, quindi ho compiuto, alcuni giorni fa ho compiuto 79 anni. Sono partito per il Cile nell'anno 1952, nel mese di settembre, perché la famiglia partiva assieme a quel gruppo di emigrati trentini che sono andati in Cile per bonificare un certo settore degli intorni di una bella città al nord di Santiago chiamata La Serena. Certamente le terre a bonificare erano terre difficili, erano terre aride, i primi anni furono durissimi per tutte queste famiglie che emigrarono, molte di loro rientrarono poi in Italia, un paio d'anni dopo se ne andarono lungo il Cile cercando altre alternative di miglioramento delle loro condizioni, invece io che avevo fatto il liceo in Italia, sono stato assunto dai padri Barnabiti italiani come prefetto nel loro collegio alla Serena. L'anno 71 sono venuto in Italia con una borsa di studio del Ministero degli Esteri, ho fatto due anni di ricerca presso l'Istituto di Ricerca Cardioascolari dell'Università di Milano. Quando sono venuto ero sposato, avevo quattro fili, sono venuti con la famiglia e poi siamo rientrati in Cile un mese prima del colpo di Stato che fu nel settembre del 73. In realtà la situazione del Cile era molto complicata, però mi arrivò dall'Italia un messaggio dicendo che la mia università mi aveva mandato 5 biglietti, 6 biglietti affinché con la famiglia rientrassimo perché volevano che io riassumessi il mio compito in un'università, quindi arrivai in Cile in un momento molto difficile, le code per ottenere alimentazione erano di parecchi chilometri praticamente, noi non avevamo nulla perché non avevamo potuto accaparare nulla, però i vicini ci aiutavano dandoci un chilo di farina, mezzo chilo di zucchero, una pasta per i denti, uno spazzolino, così abbiamo fatto il primo mese di ritorno finché dopo l'11 settembre, che fu il colpo di Stato, si incominciò a vedere che le riserve c'erano, però erano nascoste. Quel momento fu un momento molto difficile per il paese e anche per le università. I primi anni della dittatura di Pinochet furono molto duri, anche nell'ambito economico furono molto difficili e quindi io partì per gli Stati Uniti nell'anno 1976, rimasi due anni in una istituzione della Ford a Detroit, sempre realizzando ricerche, rientrai in Cile il 78 e continuai con la mia carriera universitaria. Io arrivai in Cile a vent'anni, se lei mi chiede che io ricordi o che Dio dica cosa facevo, quali furono le mie esperienze prima dell'arrivo in Cile, le dirò che non lo so perché ho dimenticato tutto, io ho perso tutta la memoria dall'anno 52 indietro e non ho mai cercato di recuperarla nemmeno perché non vale la pena recuperare, se l'ho persa per qualcosa l'ho persa. Invece poi ricordo le cose che sono successe, ricordo l'arrivo in Cile sulla nave in una città chiamata, in un porto chiamato Coquimbo, siamo arrivati di notte sui barconi perché la nave non poteva entrare, non c'era porto, quindi i barconi ci hanno portati a terra, si vedeva una città sulla collina, sembrava realmente un presepe, ben illuminata, però era una realtà distinta. Arrivamo dalle Alpi con la neve al mare, brullo desertico, è una città tipica sudamericana con molte casette piccole, con molta povertà. La terra che ci avevano promesso perché siamo andati in Cile, la famiglia, il papà, la mamma, noi dieci fratelli, io ero il maggiore, avevamo ottenuto la promessa di una proprietà di terra che ancora non era disponibile perché era ancora in mano del vecchio proprietario, quindi siamo rimasti alcuni mesi in una piccola casa, in un settore popolare di case recentemente costruite, fin quando ci hanno consegnato la terra, però non avevamo sementi, non avevamo attrezzi, non avevamo nulla, quindi il lavoro fu molto duro. È difficile per chi è stato un po' protagonista essere molto obiettivo in queste cose, però io direi che noi ci siamo sentiti truffati, una truffa, un inganno senza nome perché evidentemente in quel momento il Trentino doveva affrontare il tema della disoccupazione, non c'era lavoro, era appena terminata la guerra, la soluzione dei politici era l'emigrazione, si emigrava una quantità importante di persone, quelli che rimanevano potevano avere il lavoro e poter sopravvivere, quindi noi ci siamo sentiti un po' uno strumento di questo gioco politico, non si mantennero le promesse fatte, io direi che delle promesse fatte nemmeno una si è mantenuto, le terre non erano terre coltivabili in quel momento, erano le peggiori terre della zona, le promesse di attrezzature non furono adempiute, le promesse di aiuto finanziario nemmeno, le terre non furono regalate, si dovete sottoscrivere un contratto con la banca francese italiana, la banca francese italiana che prestò il denaro per far fronte alle prime emergenze, anche per pagare le rate che costava la terra. Per certo quelli che sono rimasti poi triunfarono, quelli che rimasero, perché moltissime famiglie partirono per altri paesi di Sud America, rientrarono in Trentino o migrarono dentro del medesimo paese, il Cile. In questo momento possiamo dire che quelli che rimangono soprattutto nella comunità della Serena sono famiglie benestanti e direi che alcune anche famiglie ricche, invece quelli che migrarono in altri posti del Cile come a Santiago, nei dintorni, dovettero fare i lavoratori o gli impiegati e quelli fanno la vita di una classe media, io direi una classe media povera nei riguardi di quello che può essere della classe media in Italia. Io feci il consultore durante più di vent'anni, però il mio impegno era più che altro con i nostri connazionali che si trovavano in situazioni di povertà o di emergenza economica, fu sempre la mia preoccupazione, perché sentivo un obbligo morale. Io sono arrivato povero, però ho avuto anche fortuna, sono stato aiutato per poter studiare, ho potuto fare l'università gratuitamente, ho potuto lavorarmi, ho potuto fare una bella carriera universitaria, quindi sentivo che io ero un fortunato e avevo l'obbligo morale di impegnarmi anche con i miei connazionali che erano arrivati assieme a me, molti di loro sulla stessa nave. Quindi mi sono impegnato durante molti anni con l'aiuto che mandava la provincia come consultore anche in forma privata senza essere consultore. Credo che un po' quello è una vocazione, la vocazione ci fa anche contenti. Io non ho mai sentito un'allegria così grande che quando ho visto le lacrime negli occhi di una mamma che vedeva che il proprio figlio poteva studiare in una buona scuola perché aveva ottenuto una borsa di studio o un anziano che non aveva nulla e non aveva nemmeno la pensione perché molti non hanno la pensione locale, quando riceveva l'aiuto della provincia che sentiva che realmente qualcuno si preoccupava di lui. Quella un po' fu la mia motivazione. Grazie a tutti.